ha perso la vista da oltre un anno ma il naso ed un olfatto super gli consentono ancora di andare a tartufi con l'amico di sempre il proprietario esperto cavatore che non l'abbandona mai una storia straordinaria di affetto commovente tra uomo e animale in questo caso un cane cocker spaniel campione nella ricerca del tartufo il cagnolino si chiama leo ed è nato nel giugno del 2012 racconta lorenzo tanzi 69 anni insegnante tecnico ora in pensione esperto e storico divulgatore dell'affascinante mondo che ruota attorno alla secolare tradizione della raccolta dei tartufi e ai loro protagonisti i cavatori e i cani amici inseparabili veri e propri prodigi della natura senza i quali nulla sarebbe possibile si trattava di una malattia degenerativa della retina di origine genetica non curabile per me è stato un grande dolore ogni volta che pensa questa cosa mi emoziono perché c'è un rapporto che si instaura fra il tartufaio e il cane nel nostro territorio il cane diventa un componente della famiglia e già lui e all'età di due mesi due mesi e mezzo riusciva a trovare qualche tartufino pian piano leo è diventato un cane veramente bravo meticoloso nella cerca obbedientissimo era in grado ed è in grado di segnalare un tartufo all'inizio dell'emanazione del profumo quasi mai dico il tartufo più bello che ho trovato perché io sono della vecchia generazione quella che metteva in tasca i tartufi e raramente li faceva vedere se non ai componenti della famiglia però nel 2020 leo ha trovato un tartufo di 580 grammi probabilmente già vedeva un pochino meno però ancora se la cavava bene nel 2020 anno scorso di ottobre è riuscito a trovare un tartufo di 130 grammi ma non è il peso e come il cane lavora come è legato al conduttore al tartufaio questo è importante